Il senso civico purtroppo non appartiene a tutti ed è per questo che le città e i paesi dove ancora non vengono adottate sanzioni si ritrovano a fare i conti con l'immondizia buttata a quella. Il caso emblematico questa volta è la piazzola antistante, l'ingresso di uno dei comuni dei borghi più belli d'Italia, Pettorano-Sugizio, dove chi sosta è solito buttare cartacce, bottiglie e rifiuti di ogni genere sui prati senza pensare che i luoghi vanno rispettati. La polemica è arrivata da residenti del comune di Pettorano e dagli sportivi civili che affollano spesso quella piazzola per fare rifornimento di acqua. Non è possibile arrivare qui sotto a Pettorano e assistere ad uno spettacolo di inciviltà come questo, hanno sottolineato. Siamo scioccati e anche arrabbiati perché non si può non rispettare ciò che è di tutti. Abbiamo pensato di divulgare la notizia finché si faccia qualcosa per mettere fine a questo scempio ambientale che certo non propone a favore del nostro territorio. Per questo sollecitiamo l'amministrazione a controllare e a sollevare multe dove sia necessario. La situazione è ormai improponibile ovunque e il senso di civiltà sembra non appartenere più agli individui che imbarba l'educazione civica buttano ovunque rifiuti senza pensare alla pulizia. Il biglietto da visita che offriamo comunque non è dei migliori e questo territorio oggi ha bisogno soprattutto di quello se veramente si vuole mettere in moto la macchina del turismo. Intanto si invita il rispetto dell'ambiente e i posti che frequentiamo altrimenti sarà difficile lasciare al prossimo un mondo migliore di quello che viviamo.